Buonasera Coriccini! Ciao, prego! Non ci mancherebbe, prego! Ah, già pronta, perfetto! Bene! Oggi brindiamo per le nostre scaloppine! Certo! Oggi brindiamo per le nostre scaloppine Certo! Che salutiamo, amore? Non lo so, che vogliamo salutare? Allora, gli ingredienti sarebbero Che è qui? Il filetto, le sienche Poi abbiamo un po' di mucca che adesso insoliamo e insoliamo Mettiamo un po' di sale e un po' di pepe Nella farina? Sì! Mettiamo un po' di curcuma Ci sta! Poi abbiamo i capperi E i capperi Che è la capperi? Come è la capperi? E' il limone E' il limone E' il salato E' il vino E' il vino Il vino Il vino Il vino Il vino E' il vino Ci vediamo dopo Ci vediamo dopo Bude spokoi Quindi, ritorniamo alle nostre scaloppine Cisnaccio Abbiamo soffritto l'aglio Cisnaccio Allo Alloh 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 Come è un po' di muncili Cisnaccio 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 Ok, so un po' di mascito Come sempre Paraglum Non è facile Alloh 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 la bracciola di meiara. Questo non è necessario per il filo, ma non è necessario per i pezzi. Ma abbiamo deciso di usare un rizzo di panierare. Abbiamo avuto il filo. Abbiamo fatto due parti. Amore, sai cosa stiamo fare? sono a tua disposizione come sempre non ci stanno ci vuole una padella più grossa amore mio ce l'abbiamo ma mia moglie tutto bene tutto bene come si chiamano capri in russo benissimo non ci vuole, non ci vuole non ci vuole grazie io spravo il mouca che il fa sottotitolo come si chiamano capri in russo e ci vuole noi abbiamo avvare l'umura un po' di più e ora si chiamano un po' di più e ora si chiamano un po' di più e ora si chiamano un po' di più Capersi. Capersi. Grazie. Capersi. 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 Con tutti e due lato abbiamo soffritto. Dopo lo sfumiamo con un po' di vino. Che vino dobbiamo? Vino bianco, un Muller Furgau. Come si vuole di vino. No, tutto questo mi spostiamo in fricata linea e in principio... Buonissimo. Stiamo spostando per frizzi. Quindi, si vuole di vino di Plaffoy. Del Trentino. Del Trentino. Del Trentino, del Trentino. Cosa è? La Diggia? La Diggia. Sì. La Diggia. Sì. L'initato, del Trentino. Sì, la Diggia. Sì, la Diggia. Sì. Non ha detto questo... Sì... Per me, piacciono, piacciono il vino più lido. Questo vino me, per me, è troppo suggio. è molto poco vedete che c'è un po' di sangue se vedete che è un po' di sangue se vedete che è un po' di sangue bisogna percibirlo 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 ok? perfetto adesso li schieniamo un po' con vino e lo facciamo come vuole? come vuole? sfumatura di vino bianco una bella sfumatura una bella sfumatura bene ok, aggiungiamo e aggiungiamo qualcosa adesso vi pare che no? intanto per il nostro primo anno facciamo un saluto alla nostra amica di Olga che si chiama io ho chiesto di oggi percibirci a te una mucca perché è un po' di sangue guarda la canina con vino percibirci percibirci a te una bella a te una bella a te una bella a te una bella grazie a te una bella ciao ciao saluto poi aggiungiamo un po' di rosmarino in una macchina, in cui si aggiungeva un po' di rosmarino un po' di rosmarino un po' di rosmarino grazie grazie vorreste pronta a fare un altro casino? arrivo abbiamo un intruso ecco qua tu mattina basta, della finconina ecco io ok siamo? si, vorrei far sentare è pronta, non è? va va morbidissima morbidissima, veramente non è dolce la smianca senti il limone, senti tutto chi vuole far sale solamente notte è ottima, pronta va bene va bene va bene ok, facciamo la prima parte e servire e facciamo? allora Giorgia no, Giorgia la mettiamo, questa è per noi Giorgia la tagliamo a noi capito? questo di che? questo questo è mio ok ti ricordo quello che è mio quello che è mio aiutatemi da Oiga e Fabio scaloppine con i cappari e limone e buon appetito ciao buon appetito ciao 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 ciao